Ciao a tutti! Lui è Tommini! E lei è Valentì! E insieme siamo in niente di che! Che bel nome Tommini! Di merda lo so Valentì! No, è vero, l'hai deciso tu! No, tu l'hai deciso! L'hai deciso tu! È davvero un brutto nome! L'hai deciso tu, l'hai deciso tu! L'hai deciso tu, l'hai deciso tu! Allora bambini, avete acquistato le nostre uova niente di che! Ma Valentì, così sembra che non sono buone! Hai ragione Tommini! Sì! Allora vogliamo dire qual è la differenza tra le nostre uova e quelle degli altri? Cazzo, bambini, aia! Bambini, guarda con i bambini! La verità è che le nostre uova hanno una bella carta ma una sorpresa di merda! Sì, così i bambini si abituano sin da piccoli alle delusioni della vita! Yeah!